Musica E' proprio una scuola viva, scuola di vita, scuola che insegna gli allievi a socializzare, a stare insieme e ad aprirsi al territorio, a vivere il proprio territorio. Un progetto importante perché c'è anche una continuità con la seconda annualità, per cui ci dà la possibilità di estendere questo progetto non solo agli alunni che hanno partecipato l'anno scorso, ma anche a quelli di quest'anno. Noi abbiamo mantenuto più o meno le stesse discipline, le stesse aree tematiche, che sono state quelle sicuramente del laboratorio di cucina, che è uno degli indirizzi peculiari di questo istituto. Ma l'abbiamo anche allargato, hanno e hanno avuto la possibilità di fare altre discipline, come nuoto, quest'anno anche danza, in modo tale da poter avere la voglia di restare a scuola. Insegna ai ragazzi a capire che ciò che si fa poi a scuola serve per quando si va fuori dalla scuola, e quindi a costruire il proprio percorso e non solo, la propria identità personale di uomini, di cittadini e di professionisti.